buonasera a tutti buonasera a tutti e benvenuti benvenuti io sono seno corbini product specialist audio sales e oggi parleremo di quello che è il diciamo il mondo del nuovo sistema la nuova piattaforma adamson cs prima di incominciare prima di diciamo nel mentre che aspettiamo che tutti quanti i registrati si connettano vi ricordo se non avete ancora fatto di mettere un bel mi piace ai nostri canali social e quindi di conseguenza facebook linkedin twitter fare la recensione a su google se i nostri webinar diciamo sono di vostro caldimento così come vi ricordo che tutti quelli che sono i nostri webinar li potete trovare li potete trovare in diciamo on demand sul canale di youtube di audio sales ma veniamo a noi veniamo a noi direi che possiamo iniziare a parlare di quello che è il diciamo la situazione adamson cs scusate se mi metto a ridere ma ogni tanto qualcuno di voi mi fa i saluti sulla chat e quindi mi immagino le vostre facce che mi fate le battute è molto divertente come cosa bene dicevamo adamson cs adamson cs è una piattaforma innanzitutto perché una piattaforma una piattaforma perché non è solo un insieme di cabinet e amplificatori cavie ma è un ecosistema intelligente per l'appunto tant'è che il software si chiama a i dove ai sta per a rei intelligence ed è una piattaforma introdotta di recente da adamson prima diciamo in versione poi in source e poi è stata estesa a tutto quello che è il mondo dei line array adamson ma andiamo step by step e cerchiamo di capire un attimino di che cosa stiamo parlando piattaforma piattaforma composta da che cosa composta fondamentalmente da speaker dove per speaker come vedete nella slide io intendo intelligent speaker ok perché intelligent perché vedremo che a bordo hanno questi questi altoparlanti hanno un intelligenza ovvero una dsp che mi permette di controllarli individualmente un sistema di rack ok rack perché cosa rack per la gestione del segnale l'indirezzamento del segnale la distribuzione del segnale e la gestione dell'alimentazione di tutti questi speaker connessi dopodiché il software il software come vi dicevo si chiama ai diciamo è passato per diverse versioni di beta testing magari chi di voi ha la serie csp point source magari ha anche visto la versione beta del software che abbiamo dato all'inizio ai ai nostri clienti che erano desiderosi di provarla finalmente siamo arrivati ad una versione che si chiama ai e la versione definitiva e diciamo è molto interessante ma facciamo un passo per volta andiamo a vedere qual è il concetto che c'è dietro la piattaforma cs il concetto principale è il seguente voi vi ritrovate con il vostro bellissimo sistema di diciamo di cabinet adamson e dentro ad ogni cabinet trovate un amplificatore e una dsp quindi ogni singolo modulo è amplificato e processato in poche parole è un sistema attivo dove all'interno abbiamo un processore o un processore arm dual core per essere precisi che ci permette di andare a gestire tutto quello che sono i filtri fir di lei polarità e qualizzazione e questa cosa qua mi permette di essere estremamente preciso nel tuning del del mio sistema ovviamente i rack che vedete nell'immagine non sono degli amplificatori perché essendo il sistema attivo non ho bisogno del dell'amplificatore separato con l'apposito cablaggio i rack che vedete sono diciamo dei rack pensati per la distribuzione della corrente e del segnale che sono opzionali nel senso che si può partire solo con il sistema diciamo di cabinet per poi successivamente fare uno step perché dovrei fare questo step perché i cabinet volendo parlano milan ok quindi io se ho una console che è in grado di comunicare in milan posso passare il segnale direttamente verso i miei cabinet ok quindi fondamentalmente nel retro del nostro array troviamo che cosa troviamo i connettori di segnale e di controllo come vi dicevo esistono più tipologie di rack che servono per fare che cosa distribuzione di segnale distribuzione di alimentazione e diciamo distribuzione del segnale di rete la cosa interessante e lo vediamo fra un attimo è che esiste uno di questi oggetti uno di questi accessori chiamiamoli uno di questi dispositivi a rack che non solo mi permette di fare la distribuzione del segnale tramite milan ma mi permette anche di processare il mio segnale in termini di diciamo matrice nel senso che nel caso in cui io mi ritrovi in un festival e ho più console che arrivano verso l'impianto io semplicemente con quello che si chiama gateway sono in grado di andare a indirizzare volta per volta le singole console mi fa anche da mixer per intendersi ok il tutto viene gestito come vi dicevo dal software a i dove ripeto ai sta per array intelligence come comunicano tutti questi oggetti tramite il protocollo avb milan milan che cos'è giusto per darvi un'idea milan è un protocollo anzi una personalizzazione nemmeno personalizzazione una rivisitazione del protocollo avb che è stata fatta da tutti questi produttori che vedete diciamo nella slide ovvero è una diciamo un modo per rendere la vb protocollo avb diciamo è un modo per dargli interoperabilità fra i vari brand ovvero questi brand si sono messi d'accordo su tutti gli aspetti del protocollo avb in modo tale da avere la garanzia che attacco e funziona ok quindi hanno reso semplice la gestione della vb per quanto poi non fosse così complicata però a leggere avb milan significa che comunque sono compliant a tutti questi altri brand ok ora se io penso a un sistema adamson cs come vi dicevo oltre che ai cabinet oltre che al software o anche dei rack io parto nell'illustrarvi i rack per il semplice fatto che sono lo step di cui all'inizio potreste anche fare a meno cioè non è obbligatorio utilizzare le unità rack di adamson cs il primo step di utilizzo di un sistema adamson cs è semplicemente compro i cabinet che mi servono e di conseguenza porto il segnale direttamente al singolo cabinet e poi faccio i link di segnale come in analogico in questo caso perché non ho la possibilità di veicolare il segnale avb ma ci arriveremo quindi partiamo dai rack capiamo che cosa sono così almeno capiamo se ne possiamo fare a meno o se sono indispensabili come vi dicevo una di queste unità rack disponibile è il gateway il gateway è a tutti gli effetti una matrice 16 per 16 ok perché 16 per 16 perché fondamentalmente io faccio conversione dal mondo analogico o mondo asb verso la vb verso il mondo avb e viceversa quindi una conversione bidirezionale in poche parole arrivo con i miei segnali che non sono avb o volendo anche avb al mio gateway e tramite la matrice interna indirizzo il segnale verso il mio impianto è obbligatorio avere il gateway beh non è obbligatorio è obbligatorio nel momento in cui voglio interfacciarmi a voglio arrivare in avb dentro il mio sistema e voglio avere la possibilità di controllare magari il livello lì diventa obbligatorio ma se ho il segnale che mi arriva in analogico dalla mia console non è assolutamente obbligatorio avere il gateway tant'è che noi abbiamo dei clienti a cui abbiamo preventivato il l'adamson cs in cui non è previsto assolutamente il gateway anzi vi dico può essere un modo per entrare nel mondo adamson cs facendo un primo step ok e di conseguenza poi successivamente nel caso in cui nel sentirsi la necessità aggiungere quello che è il mio gateway quindi abbiamo detto una matrice 16 in 16 out dove questi in e questi out possono essere anche su xlr e su asm oppure avb ho 16 canali di sp gestibili dall'utente e ho tre livelli di ridondanza sul segnale l'ingresso cioè posso fare quello che altri processori chiamano input manager o quello che per esempio nei sistemi passivi di adamson non è altro che la selezione il force o comunque la gestione delle priorità sul sull'ingresso quindi a tutti gli effetti riesco a gestire in maniera ridondante gli ingressi quindi tecnicamente posso arrivare anche con il segnale analogico e con il segnale a sebu direttamente nel mio gateway impostare le priorità di segnale e è lui che veicola il tutto verso il mondo avb ok ora oltre al gateway esiste il network distribution system che detto così sembra un nome enorme vuoi sapere che cos'è nds non è assolutamente un nuovo partito ma fondamentalmente network distribution system non è altro che un modo per distribuire il vostro segnale avb tramite due switch avb che stanno all'interno che io vi ho indicato come luminex giga core perché se si parla di switch avb nel mondo del live si pensa subito al luminex giga core però tenete conto che basta che lo switch sia compatibile col mondo avb milan che va benissimo quindi non sono per forza legato al mondo degli switch luminex giga core posso utilizzare anche per esempio switch net gear con licenza avb questo è quello con cui diciamo è stato testato in il laboratorio il network distribution system ma ripeto nel momento in cui gli switch sono compatibili avb milan non avete nessun problema che vantaggio a questo oggetto qua quando è che mi serve mi serve nel momento in cui io devo andare a connettere diversi cabinet insieme dovete tener conto che nel momento in cui io vado a prendere uno speaker lo speaker a ingresso diciamo rj 45 meglio più che rj 40 ingresso diciamo che a due porte rj 45 dove all'interno c'è uno switch ovviamente perché io posso concatenare i singoli cabinet in daisy chain per cui io arrivo sul primo cabinet ok dopodiché stendo un cavo di link sul secondo cabinet qual è il problema il problema è che per diciamo protocollo e per motivi di latenza non si possono concatenare più di 6 cabinet con lo stesso cavo ethernet per il passaggio del segnale avb milan ok quindi di conseguenza mi serve un sistema di distribuzione del mio segnale su avb tramite switch ok come è che lo faccio lo faccio con il network distribution system poi come al solito posso realizzare le quali l'equivalente del network distribution system utilizzando switch net gear utilizzando pannelli patch di terze parti o roba del genere quindi anche questo è un oggetto che è obbligatorio no non è obbligatorio diventa molto utile nel momento in cui io vado a passare il segnale in avb ma come punto di partenza se mi voglio affacciare alla piattaforma diciamo cs non è assolutamente obbligatorio utilizzare un network distribution system ripeto serve nel momento in cui ho la necessità di passare il mio segnale in avb fra l'altro cosa fa questo network distribution system allora se voi avete presente come ha fatto un cavo cat un cavo categoria categoria diciamo il network distribution system se prendiamo questo lato qua del della slide come l'uscita verso il cabinet cosa va a fare il network distribution system prende i connettori del diciamo del nostro cavo cat e fondamentalmente acquisisce da uno degli switch cioè dallo switch primario dalla connessione primaria veicola quattro connettori su degli otto disponibili sull'uscita e gli altri quattro connettori li preleva da dove li preleva fondamentalmente dal dallo switch secondario in modo tale che con un solo cavo voi arrivate al vostro cabinet ok e in realtà dentro quel cavo avete il segnale che arriva dallo switch primario e dallo switch secondario quindi capito anche come ragiona in termini di patch il network distribution system volendo uno può realizzarsi un cablaggio custom ok quindi alla fine l'uscita del nostro nds andrà verso i cabinet e assolutamente qua bene ho messi sei nella slide perché vi ricordo che ogni catena in uscita dal network distribution system può contenere un massimo di sei cabinet questo vuol dire che io posso controllare massimo sei cabinet per volta no sto parlando del della singola catena audio avb se non utilizzo l'audio avb ma utilizzo l'audio analogico non ho bisogno di farmi questi problemi ovviamente anche lì ci sarà un limite di cabinet massimo che posso andare a mettere in desi chain ma è un limite più diciamo più coerente con quelle che sono le configurazioni possibili del sistema adanson cs un altro diciamo prodotto a rack che fa parte della serie adanson cs è il power distribution system questo davvero sembra il nome di un partito un vecchio partito power distribution system pds ok cosa a che cosa mi serve fondamentalmente non è altro che una sorta di rack che vi permette di distribuire su sei circuiti differenti l'alimentazione tenete conto che i cabinet di adamson cs hanno tutti il power con true come alimentazione e il power distribution system ha in uscita spero si veda dalla slide che è un po' scura ha in uscita sei circuiti con protezione ovviamente a 16 ampere power con true in aggiunta a il so capex per le alimentazioni sempre se non voglio utilizzare il power con true direttamente dal mio rack fino all'array e ho le uscite ausiliarie con protezione a 5 ampere che posso utilizzare per esempio per alimentare un computer o altre altri device che sono all'interno del vostro rack è obbligatorio questo no anche questo non è obbligatorio è ovvio che vi semplifica la vita nel cablaggio perché è un pannello di distribuzione di corrente ma è un po' come il vecchio sistema lo chiamo vecchio ma non è vecchio perché magari qualcuno di voi all s10 all s7 dice già vecchio non è vecchio però il sistema passivo di adamson aveva l'irac dove nelle rack c'era il pannello di distribuzione del segnale e di corrente ora il pannello lo potete usare o non lo potete usare scelta vostra cioè questa modularità è uno dei motivi per cui la chiamiamo piattaforma cioè posso decidere a che livello entrare all'interno della piattaforma è ovvio che se utilizzate i rack di adanson avete un cablaggio più pulito ma nulla vi vieta di adottare il sistema di rack di adanson successivamente ok last but not least poi andiamo a vedere diffusori e poi soprattutto andiamo a parlare anche di altre cose che riguardano quello che realmente si può fare con il software sulla nostra piattaforma last but not least il bridge cos'è il bridge il bridge è un convertitore ok avb asb e voi direte e che me ne faccio quando è che mi serve il bridge il bridge mi serve nel momento in cui io una console che parla avb milan e vado verso il mio sistema adanson cs ma contemporaneamente o per esempio i front film o i di lei che sono un vecchio sistema adanson s7 o s10 cosa devo fare devo estrapolare dal segnale avb che è il mio feed verso diciamo verso il piei devo estrapolare un asb per andare per esempio a parlare con gli amplificatori plm plus quindi se devo estrapolare il segnale nel formato piacevole per il mondo plm plus beh a quel punto è il bridge l'oggetto che mi serve ok quindi ho un'unità rack di servizio anche questa è obbligatoria no anzi forse quella meno obbligatoria di tutte nel senso che se ho solo un sistema adanson cs non me ne faccio nulla del bridge se ho un sistema ibrido e utilizzo la vb beh a quel punto posso valutare l'utilizzo del bridge sapete però qual è la cosa veramente bella interessante di tutta questa roba è che voi potete decidere in un secondo momento di aggiungere uno di questi racco tutti questi racche ovvio che si aggiunge tutti guadagnate un più a matita sul registro ecco mettiamo così perché siamo ci fate felici però non è non è obbligatorio avere questi racchi li posso aggiungere successivamente o magari scopro che non ne avrò mai bisogno ok ora prima di iniziare a ragionare di configurazioni iniziamo a parlare delle cose sostanziali ovvero quali sono i diffusori della serie cs a disposizione i diffusori della serie cs sono sia line array che poi in source nello specifico partendo da quello piccoli dalla serie piccolina abbiamo la damson cs7 la damson cs7 non è altro che lo stesso cabinet del s7 ok quindi chi al s7 lo può diciamo a un termine di paragone sonoro quindi allo stesso cabinet del del s7 ovvero un doppio 7 pollici dove dietro è stato installato l'amplificatore adsp sviluppata da adamson che in pura tradizione adamsone è sviluppata e gestita interamente da loro quindi fatta in casa detto così è brutto però in realtà è molto bella come cosa vuol dire che hanno cognizione di causa di tutta la catena di processamento e è un cabinet completamente compatibile con il rigging del sistema passivo le caratteristiche sonore sono esattamente le stesse perché la componentistica il cabinet è lo stesso tant'è che volendo se avete un sistema s7 passivo è convertibile in cs7 chiaramente pesa un pochettino più dell s7 passivo per il semplice fatto che a bordo avete l'amplificatore con la dsp oltre che la versione array esiste la versione poi in source cs7 p la versione poi in source vi dico che in realtà esiste in due versioni due differenti aperture o 70 x 40 o 100 x 50 dove ovviamente potete utilizzarlo sia in verticale che in orizzontale basta ruotare quella che è la tromba delle alte che trovate qua nel mezzo fra il doppio sette pollici ok e ovviamente questo oggetto è pensato per un utilizzo diciamo poi in source quindi non è pensato per essere montato in array tant'è che non ha la parte di rigging tipica dei line array con le diciamo le angolazioni anche se ci sono degli accessori che vi permettono di montarlo a palo vi permettono di montarlo appenderlo con la clamp per esempio nei sistemi se dovete realizzare un sistema di audio immersivo questo è un oggetto interessante ok dal punto di vista dell'amplificatore è lo stesso del cs7 solo che questa è la versione poi in source ok abbinato al cs7 come abbinato all s7 avete ls 118 qua ci abbiniamo il cs 118 il cns 118 è un amplificato è un subwoofer un canale ovviamente col col con da 18 pollici in kevlar come i coni del cs7 e fondamentalmente a è ls 118 con la l'aggiunta dell'amplificazione il vantaggio dell'avere il sub della serie cs è che se dovete fare configurazioni particolari tipo cardioide o and fire o situazioni in cui normalmente si richiederebbe configurazione di amplificatori particolari qua potete processare singolarmente ogni singolo cabinet ok come esiste la versione cs7 esiste anche la versione cs10 la cs10 ovviamente fratello maggiore del cs7 come ls 10 ha fondamentalmente un doppio 10 e quindi doppio 10 pollici in kevlar ok ovviamente poi ha anche il driver delle alte frequenze per chi conosce il sistema s10 il ragionamento della tecnologia che c'è dietro quindi il driver delle alte frequenze che scende in basso fino a 500 hertz con un overlap di circa 500 hertz fra i doppio 10 e il driver delle alte rimane quindi avete esattamente la stessa pacca dell s10 per intendersi pesa un pochettino di più sempre perché a bordo un amplificatore un po più potente un po più resistente e tutto quanto ho la stessa copertura dell s10 ovvero di 110 per 10 gradi questo è pensato per essere montato in array esiste anche la versione narrow il cs 10 n a 80 gradi di apertura orizzontale perché almeno se devo andare in distanza o comunque se devo montare il mio array molto vicino ad una parete avere una copertura orizzontale un pochettino più ristretta mi aiuta l'oggetto in realtà è lo stesso cambia diciamo l'apertura del driver delle alte frequenze quindi cambia la guida d'onda per intendersi esiste anche qua la versione point source la versione point source del cs 10 chiaramente per chi non ne ha abbastanza con il cs 7 p questo diventa veramente un piei portatile molto molto carino poi in source doppio 10 pollici anche qua versione 70 gradi per 40 o 100 per 50 a seconda degli utilizzi e può essere abbinato esattamente come l'ess il cs 7 al cs 119 cos'è il cs 119 è l'ess 119 con il modulo di amplificazione quindi abbiamo la versione attiva del l'ess 119 nel retro di ogni cabinet voi trovate che cosa trovate ingresso e link diciamo power control come vi dicevo posso entrare con come tutti i cabinet alla fine posso entrare e uscire con la mia alimentazione poi parleremo di quanti cabinet in realtà posso mettere in cascata perché un conto e mettere in cascata delle cs 7 p un conto e mettere in cascata dei cs 119 tant'è che i cs 119 ne posso mettere al massimo tre in cascata i cs 118 ne posso mettere quattro al massimo in cascata mentre le cs 7 p o le cs diciamo 10 p o le cs 7 le cs 10 ne posso mettere fino a 6 in cascata con la stessa alimentazione da 16 ampere quindi insomma è un discorso di questo è bilanciamento del della corrente ecco mettiamola così però oltre che la connessione di alimentazione trovate la connessione ethernet a cosa mi serve mi serve per il controllo e se ho tutto l'ambaradan diciamo dei rack e quindi lavoro in avv milan per la parte di segnale audio ridondante in avv milan altrimenti posso passare il cavo di connessione analogica e posso ponticellare con il fru gli altri cabinet a scelta vostra quale utilizzare ora andiamo a vedere che cosa intendo però prima di andare a vedere che cosa intendo vi ricordo che esistono anche i kit di upgrade quindi se qual fra qualcuno di voi ha già un sistema s7 o s10 e lo vuole aggiornare alla versione cs per renderla attivo c'è il kit che non è altro che la placca posteriore del vostro diffusore che si va a sostituire la placca dove trovate i connettori spicon la placca ovviamente contiene l'amplificatore tutta la parte di sp il diffusore diventa un pochettino più peso però per il resto è tale e quale al resto ora come vi dicevo ci sono più step che io posso diciamo selezionare cioè ci sono più livelli in cui io posso entrare dentro la piattaforma in base a che cosa alle necessità in base al budget in base al a quello che è diciamo il quello che è il mio rig attuale cioè se non ho avb chi me lo fa fare di utilizzare una configurazione avb posso anche evitarla ok oppure voglio comunque essere compliant alla vb milan partirò dalla configurazione full cs la cosa interessante è che io posso partire da quella che si chiama configurazione di partenza e ora tranquilli vi faccio capire che cos'è la configurazione di partenza per poi andare successivamente alla configurazione full cs la configurazione di partenza è quella che noi sinceramente sconsigliamo è quella solo audio cioè io ho il mio array che tratto come se fosse un normale sistema di cabinet amplificato e ci arrivo solo col segnale audio non ci connetto mai un computer per fare il controllo e l'ottimizzazione beh volendo possiamo caricarvi noi preset di ogni singola testa in base alla configurazione che avete e lo potete utilizzare utilizzate magari un processore esterno per la gestione del segnale in base al cioè fare in base alle necessità di tuning che avete volta a volta però vi perdete tutti i vantaggi dell'avere la dsp a bordo ok la configurazione che noi normalmente consigliamo è quella che abbiamo proposto a tutti i nostri clienti che poi hanno preso di già ordinato la versione cs è la versione audio più control network ok cosa vuol dire audio più controllo che io passo il segnale in maniera analogica ai cabinet però passo anche la connessione di rete per fare che cosa semplicemente per controllare ogni singolo cabinet e godere di tutti i vantaggi dell'avere un sistema intelligente dopodiché c'è lo step successivo che è quello del sai che cosa io voglio utilizzare milan audio ok però non voglio utilizzare nessuno switch allora il problema che abbiamo è che un talker un oggetto che manda segnale audio potrà connettersi a un massimo di sei cabinet anche lì ha senso ma se proprio devo fare lo step onestamente a questo punto io andrei sulla configurazione full cs dove ho tutto il sistema di distribuzione di rete che mi permette di connettere tutti i cabinet che voglio e godere al cento per cento dei vantaggi del cs attenzione questo non vuol dire che se non siete in questa situazione qua non sfruttate dsp amplificatore di ogni singolo cabine no dsp amplificatore lo sfruttare al cento per cento già a partire dalla situazione numero due se poi ho il gateway lavoro in avv milan e tutto quanto questa roba qua mi la gestisco al a full nella configurazione 4 ok questo perché ve lo dico ve lo dico perché è proprio interessante a me per esempio attira molto l'idea del dire sai che parto con una situazione che più alla portata del mio budget cioè non vado a fare l'investimento nel sistema full cs magari parto anche dalla situazione audio only e per ora se voglio aggiungere il controllo lo aggiungo con un normale switch gigabit dove chiaramente dovrò stare attento alle catene che faccio di cabinet perché più di 8 cabinet per il controllo non riesco a concatenare dovrò passare più linee ethernet ma come si dice in gergo tecnico sti cazzi nel senso riesco in qualche maniera a gestire a godere del sistema e fra l'altro ve lo dico non ve lo dovrei dire perché sono quelle cose che un product specialist non deve mai dire perché poi magari viene picchiato dai suoi colleghi commerciali però se io parto con un sistema adamson cs ho una soluzione più economica che partire con un sistema s7 o s10 passivo perché non ho il costo degli amplificatori è vero che l'amplificatore è integrato dentro il cabinet quindi il cabinet avrà un costo in più rispetto al singolo cabinet non amplificato però se parliamo in termini di sistema complessivo ho un sistema che è molto competitivo dal punto di vista quello sensibile no ovvero quello economico poi ci sono i miei colleghi del commerciale che si occupano di questo però insomma era solo per mettervi la pulce nell'orecchio interessati vi ho preparato giusto per darvi un'idea alcuni schemettini di come potrebbe essere configurato io ho preso come esempio il sistema quello che viene definito da adamson compact vi ho preparato lo schemettino per farvi capire come posso andare a distribuire la mia alimentazione cioè se non ho il power distribution system come faccio beh banalmente passo delle linee separate per cui il mio sistema compact che per adamson è fatto da due sub per parte e quattro teste per parte in appoggio appese scelta vostra io dovrò passare quattro alimentazioni perché quattro perché diciamo il modo più semplice per passare cavi volendo potreste fare potreste rinunciare no non potete rinunciare purtroppo perché io posso mettere al massimo tre s 119 sulla stessa linea quindi non devono essere per forza separati quindi questo è un'idea di come potrei passare l'alimentazione allo stesso tempo questa è un'idea di come posso fare il controllo tramite il i miei switch net gear dove anche qua io siccome amo complicarmi la vita o amo fare le cose carine ho messo due switch ma nulla vi vieta di passare tanti cat 5 e non mettere due switch ho messo anche la tratta ridondante perché mi viene da pensare in questo caso possa essere interessante avere la tratta ridondante però sta a voi scegliere se farlo no così come il segnale audio lo posso passare banalmente con degli xlr tre poli quindi questa è la configurazione audio più network control cioè la seconda configurazione che vi ho fatto vedere negli step volendo se escludo questa parte qua ho la configurazione audio holly cioè la configurazione di partenza all'interno del nostro sistema adamson cs ok il tutto viene gestito dal software che si chiama ai ok ora ai è un'evoluzione di blueprint ovvero è blueprint per chi è cliente adamson sa che blueprint c'è chi è cliente adamson sa che blueprint è il software pensato da adamson per la progettazione per il puntamento dell'array quindi la previsione del puntamento che cosa è stato fatto è stata creata una piattaforma dove blueprint è stata integrata all'interno quindi è un software che va dalla progettazione fino al deploy finale e quindi alla gestione e al monitoring delle performance del vostro array in tempo reale durante lo spettacolo quindi vado da quello che è il venue and system design ottimizzazione dell'array quindi equalizzazione di ogni singolo cabinet connettività patch controllo devo alzare devo mettere un delay devo fare tutte queste cose qua metering vedo che cosa sta succedendo diagnostica mi rendo conto se ha preso fuoco tutto o no ok per modo di dire quindi fondamentalmente è un software fatto di più sezioni fra cui una delle sezioni si chiama proprio blueprint perché perché è stato integrato all'interno del nostro software l'oggetto blueprint io vi ho riportato un po di schermate giusto per farvelo vedere poi chiaramente sapete bene che noi siamo sempre disponibili a demo farvi vedere cose e altro magari in maniera più interattiva questo essendo un webinar ovviamente avere delle schermate in qualche maniera aiuta io vedo che ho una schermata principale scopro che quelli che io vi avevo indicato come sezioni blueprint component io contro il meter e diagonale non sono altro che i tab che trovo all'interno del mio software poi ora vi dico nell'ultima release l'interfaccia grafica è anche migliorata così che è tutto più semplice qua forse ancora un po siamo nella versione la versione 2.0 da cui ho fatto gli screenshot è ancora la versione un pochettino macchinoso uscirà una versione 3.0 fra un po l'hanno presentata is per intendersi e quella sarà diciamo quella definitiva anche dal punto di vista grafico però ho una parte in cui posso gestire i miei file o la parte dove chi conosce blueprint riconoscerà questa schermata ok quindi ho la possibilità di andare a gestire il diciamo il mio progetto nell'ottica del puntamento fare la previsione di quello che sarà l'espl e spoiler per chi di voi non ha ancora fatto il corso adanson che tra l'altro facciamo in questi giorni e lo ripeteremo anche aprile se non vi siete iscritti iscrivetevi è gratuito presso audio sales dove fondamentalmente si rispetta quello che è il corridoio dei 6 db fra il fronte e tra la prima fila e l'ultima fila quindi 6 db massimi di decadimento fra prima fila e la seconda fila vedo tutte le caratteristiche del mio diciamo del mio speaker ma allo stesso modo ho la parte di ottimizzazione che mi permette di andare a decidere dove cosa voglio ottimizzare quindi lui agisce in tempo reale su quello che non è tanta la curvatura perché si dà per scontato che la curvatura ormai del mio array non la tocco più una volta che l'ho installato ma agisce sui rapporti di gain dei vostri singoli cabinet e su un'eventuale equalizzazione potete escluderla l'ottimizzazione potete utilizzarla potete non utilizzarla scegliete scegliete voi e una volta che ho fatto l'ottimizzazione sono in grado anche di capire come si distribuisce l'SPL in base a quello che è stato fatto allo stesso tempo una parte che mi permette di fare la patch ok credo che sia una bella anteprima questa qua perché non mi sa che questa versione del software è la prima volta in italia che viene mostrata ho la possibilità di fare la patch dei miei cabinet virtuali che mero preparato a casa con i cabinet reali così come nel caso in cui io abbia il gateway io ho la possibilità di gestire i vari feed quindi una sorta di gestione piei integrata all'interno del gateway ok un po quello che fanno attualmente altri dei nostri clienti con processori di altre parti che non sono che non è adams ok che non sono adams o la possibilità di gestire anche proprio il livello il father dei singoli segnali per andare a gestire i feed del segnale che poi è quello che fate fra l'altro anche se utilizzate un sistema adamson passivo con amplificatori le diciamo la gruppen tramite lake controller avete i vostri father che vi permettono di gestire il segnale o la parte di patch e come vi dicevo ho anche la possibilità di gestire le varie priorità vi dicevo tre livelli di priorità io vedo che la priorità numero 1 in questo caso è impostata su avb la priorità numero 2 è impostata su ice la priorità numero 3 impostata su analog cosa interessante rispetto a chi ai sistemi lake per esempio ovvero il vecchio modo di gestire il i segnali all'interno dei degli amplificatori la gruppen qua io la possibilità di mettere di assegnare la priorità principale anche al segnale analogico per chi è utente lei controller saprà che il segnale analogico per forza è l'ultimo nella catena mentre qua ho la possibilità di gestirlo come mi pare quindi ho tutta una parte che mi permette di gestire appunto le zone posso distribuire in zone per fare i gruppi alla fine sono l'equivalente dei gruppi delle controller per poi poter applicare uno o più layer di equalizzazione all'interno del della singola zona o del singolo cabine ok i filtri ovviamente sono tutti filtri stra precisi filtri fire super performanti ho la possibilità di inserire differenti tipologie di filtro ho una parte di metering che mi permette di vedere sia i livelli che mi sembra che non l'ho riportato qua nella slide però anche i livelli di assorbimento dei singoli cabinet e cosa che non vi ho detto vedete che ogni tanto ci si scorda delle cose se voi utilizzate il power distribution system ovviamente il power distribution system ha la connessione ethernet che vi permette di monitorare gli assorbimenti per ogni singolo circuito quindi in realtà il concetto di ecosistema ha un suo utilizzo cioè io vi ho detto posso partire senza tutto il sistema di rack ma se prima o poi arrivo ad un sistema full cs male non fa ok e poi ho tutta la parte di diagnosi che mi permette di vedere se c'è qualcosa offline se c'è qualcosa che non è sincronizzato ovvero non c'è ancora stato sparato dentro il risultato dell'ottimizzazione per esempio ok sono in grado di vedere la diciamo se è acceso è spento i quanto la potenza che assorbe i volto che assorbe la temperatura se c'è qualcosa che è andato in clip se funziona il limite l'inclinometro l'inclinometro è una cosa fighissima poter vedere se effettivamente il vostro array è stato installato correttamente come da progetto e chiedere al software di correggere quella che era l'inclinazione che lui ha fatto a calcolare scusate l'equalizzazione che lui ha calcolato in base a quella che secondo lui era la l'inclinazione corretta del cabinet potete chiedere in base a quelle correzioni che vengono fatte di andare a cambiare il alcuni parametri per provare ovviamente è un provare a correggere eventuali eh errori di eh montaggio ok in aggiunta a tutto questo cosa abbiamo abbiamo tutta una serie di accessori che ci rendono diciamo il montaggio del nostro Adamson CS eh il più semplice possibile ovvero abbiamo innanzitutto abbiamo tutti gli accessori che erano precedentemente eh diciamo eh pensati per i sistemi S7 e S10 per cui abbiamo che cosa abbiamo l'ultra compact support frame è il frame dell'S7 è compatibile anche col CS7 poi abbiamo il micro frame per chi volesse avere un ingombro ridotto eh abbiamo poi eh l'adattatore su pole mount abbiamo anche poi il subcompact support frame che è il supporto pensato per l'S10 che è compatibile anche con il CS10 avete l'extended beam cos'è l'extended beam è il beam la barra che vi permette di fare inclinazioni un pochettino più aggressive così come avete il moving point extended beam che non è altro che è la stessa barra eh con il punto di appendimento che è variabile ovvero questa vite che voi vedete nella slide è una vite senza fine io una volta che ho inclinato ho sospeso il mio array devo modificare l'inclinazione perché sono dovuto salire o scendere del mio array posso salire in quota con l'avvitatore vado a insistere sulla vite senza fine e sposto il centro di gravità spostando di conseguenza l'angolazione dell'array qua diventa fondamentale il fatto dell'avere l'inclinometro integrato ok all'interno dei cabinet in più ho una serie di tool tipo questo line array h clamp che mi permette di montare il line array con un'angolazione diciamo innanzitutto con la clamp per cui riesco in qualche maniera ovviamente non posso montare 20 sistemi tutti attaccati alla clamp eh cioè c'è un suo carico massimo però se devo montare piccoli cluster di cs7 eh riesco a montarli orientati con un'angolazione sapete dov'è che questo oggetto trova un utilizzo spettacolare eh nei sistemi di spazializzazione se non lo sapete andate a vedervi l'adamson fletcher machine che è una cosa che è stata introdotta di recente da eh adamson eh è un sistema di spazializzazione eh o meglio un processore per l'audio immersivo e per la spazializzazione per cui di conseguenza ho la necessità di impostare un tot di cluster di diffusori eh orientati in maniera precisa e definita avere questa clamp mi semplifica molto la vita così come la stessa cosa mi viene semplificata da questo point source h clamp che mi permette di orientare il mio diffusore point source eh come eh meglio preferisco dopodiché ci sono altri oggetti che mi permettono di impostare per esempio l'angolazione a cui vado a eh mettere il mio point source così come avete le varie barre che vi permettono di installarli eh appesi eh in orizzontale o in verticale la seconda che voi dobbiate utilizzare ultra compact ricordatevi sta per come se ci fosse scritto di nascosto cs7 ok lo so che sembra un più un c57 eh e subcompact è come se ci fosse scritto cs10 subcompact e ultra compact sono diciamo due modi per dire ho questo piuttosto che l'altro e ovviamente ci sono anche i famosi fly case fatti da adamson che sono rinomati eh per che cosa sono rinomati per resistenza e eh robustezza anche per peso vi dico però diciamo sono pensati appositamente per eh essere duraturi nel tempo poi è ovvio che quando si parla di fly case nessuno vi obbliga a comprare il fly case adamson è una sciccheria in più che volendo potete eh anche eh decidere di eh scegliere ok eh last but not least il cablaggio come viene fatto beh il cablaggio se io non ho tutto il rack tutto il rack di che i tuoi eh power distribution system e così via eh potrebbe diventare particolarmente ostico portare l'alimentazione insieme alla rete insieme al segnale è per questo che esistono i cavi ibridi e nello specifico eh diciamo che adamson volendo vi dà vi fa anche il cablaggio eh ovviamente come tutti i cablaggi ognuno avrà il suo fornitore di cavi eh preferito io se mi posso permettere di darvi un suggerimento eh vi ricordo che eh noi abbiamo Procab e Procab per esempio io qui ne ho riportato uno ma ce ne sono altri eh cioè qua per esempio c'è il PHC 2522 che porta eh due segnali bilanciati eh due cassette e eh diciamo l'alimentazione con i cavi da due eh da due e mezzo quindi da 2,5 millimetri quadrati che sono sufficienti per alimentare le catene che vi avevo detto ovvero per passare una 16 ampere che è la protezione che si prevede a monte per l'alimentazione dei vari eh diffusori ok quindi anche sui cablaggi se voglio fare il primo step siamo in grado di eh fornirvi il eh tutto bene questo era diciamo un'introduzione a quello che è eh il sistema adamson cs come dicono quelli bravi eh stay tuned che non lo so dire lo so mi rendo conto però eh eh tenete conto che cercheremo di eh diffondere il verbo più possibile e soprattutto appena ci arriva il nostro sistema demo perché abbiamo un sistema demo inizieremo a magari a programmare delle demo eh diciamo mirate in cui non solo lo vedete dal punto di vista proprio eh del funzionamento ma lo sentite anche che è una cosa eh interessante così come se per caso vi capita vi ricordo che noi facciamo organizziamo tra l'altro visto gli iscritti qualcuno di voi parteciperà domani a quello che facciamo in sede esattamente qui dove sono io che lascio l'undi audio sales in questo momento l'adamson certified eh adamson applied certification eh che è la certificazione di adamson eh ecco la eh si vede un attimino di più eh alcune cose che riguardano il sistema CS e eh quindi se vi capita venite a fare la certificazione che male non fa se anche se siete tecnici e non siete proprietari di service male non fa scoprire come lavorare con un sistema che magari non avete mai utilizzato anche perché è gratis quindi voglio dire non eh dovete solo venire qua da noi però insomma c'è di peggio nella vita eh quindi male non fa eh oppure iscrivetevi ai nostri canali social e qui mi concludo una certa maestria eh o iscrivetevi alla nostra newsletter tramite il nostro sito per eh rimanere aggiornati su quelle che saranno le demo eh e eh gli eh eventi ok eh quindi eh vi eh ringrazio ancora per la partecipazione siete stati in quattordici presenti dall'inizio alla fine che è molto positivo perché di solito nei webinar crolla sempre l'attenzione quindi io vi ringrazio eh per aver partecipato vi ricordo che volendo in futuro potrete rivedere questo webinar sul nostro canale YouTube ma se siete interessati venite a trovarci che ora che finalmente possiamo vederci di persona senza nessuna limitazione siete veramente benvenuti da noi quindi vi saluto vi ringrazio ancora e ci vediamo la prossima volta ciao a tutti e grazie